Nessuno ha mai pensato di sottrarre Villa Emo al territorio. La dimora palladiana di Fanzolo di Vedelago e l'area nella quale è inserita saranno vendute ad un facoltoso magnate, ma resteranno fruibili al pubblico. Lo ha garantito lo stesso potenziale acquirente al credito trevigiano, attuale proprietario. Abbiamo avuto le assicurazioni che il bene potrà essere fruito. È ovvio che il potenziale acquirente dovrà poi concordare con le autorità locali e le modalità. Però noi finora nei nostri comunicati non abbiamo mai comunicato il contrario. Quindi questa sorta di protesta pubblica sul fatto che la villa non possa essere più utilizzata è assolutamente mai uscito dalla nostra banca. I vertici della banca hanno incontrato i media proprio per placare preoccupazioni e polemiche sul futuro del complesso. L'offerta è definita solida e credibile, sebbene anche per volontà dello stesso interessato, sia sulle cifre sia sull'identità del mecenate, viene mantenuto ancora il massimo riservo. Confermati soltanto la sua provenienza europea e l'intenzione di valorizzare la villa con consistenti investimenti. Non ne farà ad esempio un albergo, hanno spiegato dalla BCC. È chiaro che una persona che fa un investimento enorme per l'acquisto e poi fa un investimento altrettanto importante per la ristrutturazione non viene a fare un investimento per il gusto di distruggere qualcosa, ma per sostenere il territorio. Guardate che noi, il CDA del Credito Trevigiano, ha un rispetto per la villa superiore a coloro i quali parlano senza cognizione di causa. Nel 2004 la banca acquistò l'intero complesso per 16 milioni di euro e da allora ne ha destinati altri 14 per restauri e ristrutturazioni. Le risorse ottenute dalla vendita non serviranno a sistemare i conti. Credito Trevigiano, rimarca il direttore Giacon, ha chiuso l'esercizio 2018 con un utile di oltre 6 milioni. Il risultato migliore dal 2008 pre-crisi. Ma l'istituto non solo non vuole, ma nemmeno può continuare a sostenere tali costi per un bene non strategico alla sua attività principale. La decisione di cedere alla villa è in linea con la parte strategica della banca. La banca deve fare il suo core business, non è quello certo di gestire una villa di questo valore. Nessuna banca di credito cooperativo, almeno delle nostre dimensioni, ha un bene di questo tipo. E quindi se vale per tutti questa logica, deve valere anche per il credito Trevigiano. I tempi. Gli esperti incaricati dal compratore dovrebbero concludere l'analisi tecnica e amministrativa entro maggio. Entro il 30 giugno verrà sottoscritto il rogito. Notificato l'atto, Ministero dei beni culturali, Regione, Provincia e Comune avranno 60 giorni di tempo per esercitare la prelazione. Salvo imprevisti, dunque l'operazione dovrebbe concludersi per l'autunno. Fino alla firma davanti al nottaio, peraltro, potranno farsi avanti pure altri privati. Anche se, al di là di molte parole, rimarca il presidente Pignata, da cinque anni a questa parte, non c'è stata mai alcuna proposta seria per Villa Emo. Allora, la prima offerta degna di questo nome è l'unica e l'attuale, quella che stiamo esaminando.